Una mattinata divertente tra percorsi e staffette con i kart ed in bici ma anche mini lezioni di sicurezza e primo soccorso. Ad organizzarlo nel Salotto Buono del centro di Verona, Piazza Bra, la Polizia Municipale che al termine del lavoro svolto dagli agenti nelle scuole materne e primarie cittadine hanno voluto in chiusura del progetto proporre una mattinata di svago e divertimento con la festa dell'educazione stradale. I ragazzi si spostano, cominciano a spostarsi perché vanno da casa a scuola, cominciano a girare il quartiere per andare in palestra, fare il loro sport. Quindi le scuole materne, le scuole elementari sono fasce di età strategiche per noi. Durante tutto l'anno facciamo del bel lavoro in classe e questa è la giornata di conclusione per vedere se hanno imparato quello che abbiamo insegnato. Durante la mattinata i bambini sono stati coinvolti in una serie di attività divertenti e percorsi educativi non solo sulla prevenzione e sicurezza ma anche su altre tematiche ad esempio il settore ambiente del comune ha proposto attività sulla sostenibilità e l'utilizzo consapevole delle risorse energetiche. La facoltà di scienze motori ha predisposto alcuni percorsi sportivo educativi. I vigili del fuoco hanno illustrato le attrezzature utilizzate in caso di incidente stradale mentre AMT ha presentato un'attività su come parcheggiare correttamente. Quanto è importante investire nei giovani per evitare gli incidenti che ci sono oggi e gli incidenti di domani? È importante in due direzioni la prima quella intuitiva perché i ragazzi imparano acquisiscono diciamo comportamenti corretti che metteranno in pratica mano a mano che la loro diciamo autonomia aumenta però i ragazzi i bambini anche quelli piccoli contaminano i genitori con i buoni comportamenti quindi noi un paio di anni fa e quest'anno lo riproporremo nel nuovo anno scolastico arruoleremo i mini agenti onorari questi bambini della scuola materna che ricordano ai genitori quali sono i comportamenti corretti.